Ne ho parlato con la mia commercialista e la mia commercialista mi ha dato una soluzione, ha detto Carmine, se vuoi i soldi, se li vuoi subito, sappi che devi evitare le fatture. Ma come, una commercialista che ti dice questo? Fatture? Meno ne fai e meglio è. E sarà capitato a tutti di trovarsi in una situazione in cui due professionisti si mettono d'accordo sul pagamento e c'è sempre un momento in cui diciamo, ma pagamento con la fattura oppure... E lì inizia un duello western, no? Chi dice prima quella parola perde, dice, pagamento con la fattura oppure... Oppure? No, dico, con la fattura oppure... No, no, non ho capito. No, dico, pagamento con la fattura oppure... A black. Come se la guardia di finanza non conoscesse l'inglese. Applausi